Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. Quello che stiamo per approvare è un provvedimento importante e strutturato. Il Parlamento è chiamato a trasformare in legge un decreto di cui il Paese ha effettivamente bisogno. Parliamo di sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione. Vale a dire un provvedimento di cui abbiamo bisogno come l'aria da respirare dopo dieci anni di crisi finanziaria e soprattutto dopo sette di Governo PD. La volontà del nostro Governo, sottoposta al giudizio del Parlamento, è quella di intervenire su alcuni specifici settori che oggi si ritrovano a dover operare in oggettive difficoltà normative. Il decreto semplificazioni vuole andare incontro alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in vari campi, dalle agevolazioni economiche per l'accesso al credito, alle semplificazioni procedurali per la gestione dei rifiuti, dalle regole per la partecipazione agli appalti pubblici, all'accessibilità delle piattaforme digitali ministeriali, dalla semplificazione nel campo delle assunzioni nel mondo della sanità e dell'istituzione, ad una migliore normativa per gestire l'edilizia penitenziaria, sia quella esistente che quella necessariamente programmata. I passaggi istituzionali che abbiamo compiuto fino ad oggi qui in Senato per la trasformazione in legge di questo decreto si sono svolti in un clima di correttezza in cui devo, per onestà intellettuale, dar testimonianza per quanto riguarda il rapporto tra maggioranza ed opposizione. Le diverse forze politiche, infatti, presenti in quest'Aula, tutte le forze politiche, hanno dato il proprio contributo integrando il decreto nei modi e nella misura di tenuta loro stessi più consona e corretta. Ne è uscito un testo, a nostro avviso, migliore, maggiormente completo, che sviluppa gli undici articoli in modo armonico ed integra, in alcune parti, fornendo quelle risposte ai problemi che, come sistematicamente accadeva con la sinistra e il Governo, venivano lasciati in una sorta di limbo, senza essere risolti o nemmeno affrontati, perché probabilmente ritenuti troppo complessi. Un esempio lampante è quello del blocco dell'assunzione delle forze dell'ordine, follia che ha generato uno squilibrio che stiamo quotidianamente scontando e ci ha costretti ad agire con tempestività per andare a ristabilire un livello minimo occupazionale in grado di sostenere l'intero settore. Questa emergenza, ereditata dai governi di sinistra, per i quali la sicurezza era evidentemente un qualcosa che aveva importanza relativa, ci ha quindi obbligati ad una precisa scelta, fare un nuovo concorso, rimanendo ancora fermi ad aspettare tempi lunghi ed incerti, oppure andare ad assumere nuovi agenti fin da subito, attingendo dalle gradatorie esistenti, rispettando però le regole vigenti e dunque quelle limitazioni in termini di età e titoli di studio che ha modificato il PD nel 2017, escludendo di fatto una parte delle persone che avevano partecipato all'ultimo concorso senza ovviamente risultare nei vincitori. Ancora una volta, quindi, ci siamo trovati a dover gestire problemi causati dai governi precedenti, cercando la soluzione migliore per il Paese, ma resta il fatto che se si fossero fatte le assunzioni per tempo non sarebbe sotto nemmeno il problema e il PD avrebbe potuto cambiare la legge, come effettivamente ha fatto, senza escludere centinaia di persone della gradatoria. Si promettevano nuovi agenti, ma alla fine non si assumevano mai, perché mancavano i soldi, ci veniva sempre risposto. Mancavano sempre i soldi per assumere agenti. L'Europa chiedeva rigore nei conti, ma si poteva però chiedere flessibilità per dare gli 80 euro, vero? Beh, c'è una novità. Noi siamo differenti e noi, gli agenti, li assumiamo sul serio. E in questo provvedimento c'è molto altro ancora. Faccio alcuni esempi. Sugli enti locali, per esempio, andremo a fornire ulteriore ossigeno ai comuni, ripristinando completamente il fundo in Mutasi, che il governo precedente aveva deciso di interdompere a fine 2018, ma che noi, ritenendolo di importanza basilare, già avevamo parzialmente finanziato per il 2019 nella legge di bilancio, già a fine dicembre. Oggi lo abbiamo completamente rifinanziato. Giusto per fare un riassunto, in sei mesi noi abbiamo reso ammissibile il bando periferie e lo abbiamo finanziato. Abbiamo sbloccato gli avanzi di bilancio per i comuni, abbiamo dato 400 milioni di euro ai comuni con meno di 20 mila abitanti, abbiamo dato 250 milioni di euro alle province ed ora abbiamo rifinanziato integralmente i 300 milioni del fondo di preequazione in Mutasi. fatti, non promesse, che certificano il nostro sostegno agli enti locali, troppo spesso dimenticati, per non dire proprio massacrati, dai vari governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Nella trasformazione in legge di questo decreto vorremmo andare a far seguire e vogliamo andare a far seguire i fatti alle parole per quanto riguarda i superstiti ed i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano, andando a stabilire indicazioni semplici per i risarcimento dovuti. È nostra intenzione fornire risposte semplificative anche per quanto riguarda il tema dell'elettricchettatura alimentare, in quanto riteniamo che sia un sacrosanto diritto dei cittadini avere informazioni semplici e veritiere in merito a ciò che finisce sulle loro tavole. È di tutta evidenza, quindi, che trasformando in legge questo decreto vogliamo apporvi alcune significative ed importanti migliorie, ma non si possono elencare tutte nei pochi minuti a disposizione. Dobbiamo però citare ancora il ripristino dell'edrice agevolata per le associazioni no profit e la nuova normativa per gli NCC, la semplificazione introdotta per gli ordini degli avvocati, il passaggio della gestione delle concessioni idrolettiche alle regioni, sempre decisi avanti verso l'autonomia regionale. Questa conversione in legge del decreto legge del 14 dicembre 2018, numero 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, è un primo importante passo per un reale sostegno ed una effettiva semplificazione a cui prestissimo dovranno seguire altre misure, che mi auguro potranno partire proprio dal Parlamento fin già dalle prossime settimane, perché come Lega abbiamo in mente diversi interventi che siamo certi gli italiani aspettano da almeno sette anni. Grazie. Grazie Senatore Campari. Salutiamo presenti tribune i ragazzi.